Benvenuti in questo nuovo video di GTA V Quest'oggi rampa, si parte dalla noob Si arriva la prota, si arriva la gota, si arriva quella impossibile Probabilmente non la finiamo, è qualcosa di assurdo La votazione è il 7%, non ho altro da dire Quindi vuol dire che non la finisce nessuno Abbiamo appena fatto una coprace Da 1 ora e 15 minuti E siamo qui pronti Per fare altre 2 ore Per fare altre 2 ore Questa è quella easy, vedete quelle alla destra Sono quelle che vi devono far paura Tra l'altro io non so cosa c'è di easy in questa Perché non mi sembra così easy Guarda campione, stavo controllando Sentivo il dolore, capito? Perché mi è venuto il dubbio, guarda l'ho sentito Ok, bravissimi Sono un bravo osteopata io nel caso Ah si? Sai fare il crack? Ma li fai tipo su tiktok con le belle ragazze Per fare un sacco di views? Io direttamente su youtube almeno ho avuto 40 minuti Monetizzati Bello, sapete chi ha finito la prima rampa? E' proprio lui Io sto ancora andando Non so se la finirò Anche io sono un bravo osteopata Guarda campione Ma avete fatto pensare i culi che si vedono su tiktok con gli osteopati Scusate mi sono distratta C'è quello di Carlotta che è molto famoso Non mi veniva il nome Dicevo di chi è il culo famoso? Non mi veniva in mente Ecco Non è il caso se ne vuoi partecipare a un video Ah quindi la stai inventando anche tu? Vuoi fare concorrenza all'osteopata? Vuoi anche tu il sacro di Carlotta? Sì Allora io ragazzi mi dissocio dal sacro di Carlotta Hai fatto tutto tutta la sola a campione Ci sei finito tu dentro sta storia Io sono preoccupato per quello che vedremo nei commenti Comunque nel caso hashtag Carlotta per favore No ragazzi Allora Siamo ancora alla noob? Siamo ancora alla noob per fortuna Vabbè ringrazia Ma è in un sacco easy questa mappa comunque Sì 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 Alte per cento Alte per cento di voto per chissà perché Ti prego ti scongiuro ti voglio bene Grazie Grazie È andato tutto nel modo giusto No Allora aspetta la tengo No Sì Steff Ok ce l'ha fatta C'ero anche io lì in mezzo che rotolavo No Steff Dimmi Marcismo No Steff è bravo Sono già morto Ma non hai capito Io soffitto dell'altra rampa adesso Come Buono No non posso Ok Allora io ho ufficialmente il passaggio alla prossima rampa Che fortuna Hai visto? Anzi Adesso inizio a dire che è sacro Siamo al pro Siamo al pro Oh così almeno lo siete in mezzo Sì sì Prosciutto cotto Prosciutto crudo Prosciutto alla mortadella Milone No Marci Salame Milano Oh ragazzi abbiamo un problema Allora capiamo se dovrò utilizzare la tecnica nonetta Io ragazzi ho fatto anche la seconda Sono il cheating Anche Marci Spera mi sa che l'ha visto Dove sono caduto alla fine Anche io Anche io Aspetta l'ho salvato all'ultimo Oh mio Dio Oh mio Dio Avevo due ruote fuori Ho finito Ho finito Ho finito Grazie Carlotta Grande Carlotta Grazie A Milano A Milano Ma Piazza dell'Uomo Sì sì Piazza dell'Uomo Camperato lì Manco Call of Duty E la sera E la sera Alle colonne di San Lorenzo Che è la via Ok Tutti lì Tutti lì Ok Ma c'è lo spawner Ah perfetto C'è lo spawner Sì sì è per quello che poi di sera Essendo più buio Spawnano Ho capito Sono incantati Che basta mettere Quattro lampioni Attorno allo spawner E risolvi Eh sì Cioè Ragazzi Vedete La leggiadria Con cui io sto percorrendo Questa rampa Arrotolando Se cado adesso Ti giuro che creo Un altro mondo Un multiverso L'hai fatta la prima dei pro? No Ma Fata che ti venga a beccare No 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 Non si scherza È finito È finito Io ragazzi Sono in scia da Mark Sto volando Mark Non ho il controllo Mi dispiace Cado Io ce l'ho fatta Annetta Poi non lo so Vai prima a tutti Vai nonnetta 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 Andate ragazzi Molta calma Io nonnetta non ci vado No io sì Molta calma Olimpionica Ok Ma questo è il furgoncino Con cui ho fatto il Monteciliad Vado a nonnetta Ragazzi c'è troppo traffico Come facciamo? Comunque sapete che credo Che in questi casi Bisognebbe sfruttare l'aereo Per fare questi livelli Certo E che praticamente Fai tutto il giro Prendi Il checkpoint Alla massima velocità Tramite l'aereo Perché è girato attorno E io così ho fatto prima E voli Ma se tu sei capito niente E l'ho visto su TikTok Elon Musk L'ho visto su TikTok No non ho capito nulla No ragione Se emitate Vito la vita Sono diutrita brodi Cioè vi mando un concerto di rove Nel caso Oh no Ti prego Chi sei? È Mark Voglio nome e cognome Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Mi sta venendo Da piangere La tecnica nonnetta funziona Ragazzi È l'unica Eh lo so Non c'è Gloria Non c'è Arte Dove c'è Gloria? Dove è andata? L'ho finita anche io però ragazzi Nonnetta For the win Ragazzi Rampa numero 3 No Sì No È proprio lei No Ma si tornerà mai Sapete come si chiama la terza rampa? Cristina Cioè ma Allora ragazzi Sarà un ciclo Oppure Poi si rimane lì No 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 Dobbiamo andare ancora più avanti Ferre Ce ne sono altre Dopo questa E vedi lì alla destra No No Sembravo chi che tu sia Cos'è quella No ragazzi Non avevo capito Io pensavo che poi si tornasse alla nuova No 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 Stefano la fai subito quella Marci guarda Ti giuro Ti giuro Ma bravissimo Lo ce l'hai fatto Marci devi andare tipo In quel posto Ok E ordinare quella cosa lì Ok E poi dire anche quell'altra Eh Con il gran nuovo Big Mac Tranquillo L'ho già provato io Campione Buonissimo Eh Spacca Il Big Mac Chicken Buonissimo Cioè È Opie Ma che si chiama Stef? Big Mac Chicken Tra l'altro ho letto un sacco di gente che diceva No è più buono quello il bacon No è più buono il Big Mac Chicken Il Big Mac Chicken Cioè è meglio che non litigate con me Cioè è meglio non farlo questo litigio Anche io non l'ho assaggiato perché non mangio carne però mi fido Quindi state attenti Mi fido Mi fido Non mangiate i poveri chicken Aspetteremo che Ma tanto quello non è chicken Ha ragione Quello è un alien L'hanno preso da Marte Oddio Perfetto Fino alle cucine di McDonald E l'hanno cucinato Hanno finito le razioni Di quelli che hanno preso Nel 68 Esatto Dovevo tornare a su Marte È grande Allora ragazzi La È difficile se è una terza Ma va Ma l'hai vista dall'alto? Ragazzi io sto facendo il furgone Ecco L'avevi quasi fatta Però penso di cadere alla fine Lo sapete No ma il problema è che non ha senso che provi a farla veloce questa Porca Vi voglio dire una cosa Non ho mai visto una rampa più Ok Allora Secondo me Se hai la skill Molto bella e divertente Il problema è che se l'hanno votata col 7% di politica Vuol dire che il 93% non aveva la skill Esatto Esatto E quindi quello è un problema Perché però almeno è confortante Perché non siamo solo noi Ragazzi ma nella quarta c'è un wallride Guarda campione c'è di tutto Non è la quarta quella Quella è tipo la settima Campione Però devo dire che l'idea della mappa in sé è molto bella È molto bella È l'idea Ragazzi per me ne stai Cioè se fai parte del 7% è molto bella Capite Se non è quei parte Non è il 7% eletto Esatto Ti eletti che possono completare questa rampa Ok Eh raga ha fatto l'aereo al primo colpo Non è vero Ti prego Fermati Ti prego Fermati Sii Ho fatto la prima Ma c'è Mark dopo di me Ragazzi sto arrotolando Davvero? Allora campione devi stare lento fino all'ultimo Poi arrivi al pezzo finale che c'è una micro rampa minuscola E prendi tutta la velocità e fai zoom Faccio tipo zoom Sì È molto difficile però Carina, carina, bell'idea Cioè voi non vi state rendendo conto di cosa avete di fronte Viti Viti No aspetta, aspetta Sto riuscita a riprendermi Ok Ragazzi sono alla fine, guarda Sei bravissima Grande Sere, mamma mia Oggi ragazzi c'è una luce diversa in questa stanza Ha mangiato i pastelle oggi I fan di stelle? Sì perché così si illumina È tutta caffeina ragazzi Fa le luce delle stelle lei Ho finito Ho finito tutta la rampa Ok Ma perché Marce è quarto? Scusatemi allora Marce è quello che sta soffrendo in più oggi Perché la tecnica non è proprio lontana dal suo DNA Io invece sono abituata Se fa freddo Perché la faccio sempre Ok Brody sono arrivato alla fine Quindi devo andare Tutto, devi riuscire Capito? È quello il problema Io sono caduto due volte Davvero? Certo Perché? Eh ci hai provato un bel tentativo È carino È carino Mannaggia Ma perché sono primo? Eh sono caduto Campione Cioè anche tu sei la Panto? Sì Io pensavo che fossi dopo Ragazzi Tu hai preso il busto in aereo con la Panto? Easy per strike E' impazzita Avete notato che ha avuto una trasformazione quest'anno? Io vedo che è proprio Allora Vi devo spiegare cosa è successo Sono andato in Cina Ok E invece che prenotare una borsa Ok Comunque dici tipo Fammi la borsa O Chanel uguale Ho chiesto Mi fate una fere Uguale ma che si lamenta meno E gioca meglio E quindi lei è la versione cinese di fere E la vera fere dov'è? La vera fere l'abbiamo buttata Abbiamo capito che era meglio così Però i fan ancora non se ne sono accorti Quindi l'importante è quello L'importante è quello Ma adesso gliel'hai spoilerato scusami No 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 Perché tanto inizierà il periodo del complotto Ma alcuni ci crederanno Altri no Capite? Adesso sono caduto di nuovo con la Panto Ragazzi sto per tipo prendere E straparmi la faccia Beh ecco ecco Se guardate bene Ci sono dei nei che prima c'erano E ora non ci sono più Ok ok Visto Così poi fanno Qui ci sono Quei canali che fanno i video I segreti Esatto Quelli che ti fanno tutti gli occhi strani Avete visto? Quello che non sapete Raga ce l'ho 12 segreti Sulla vita di 2player One console Sono già carico Bello No aiuto ragazzi Ho perso No La Panto mi ha tradito L'ho azzeccata Spacco Io non ho capito Io non È perché lui è più avanti di noi Esatto Quindi sta parlando di cose che non conosciamo Ah perché lui ha fatto la Panto già Vecchio ha fatto tutto Però non se ne vanta neanche Cioè lo dà proprio per scontato Perché io sono umile Ah Ma tu dici che Steph non è umile Sono umile anche scarso Uuuuuh La fa La fa La fa Era il momento Era giunto Ragazzi La Panto non frena Dov'è? Brodi devi fare il giro Tondo tondo Casca al mondo Casca la terra Per terra Entra nel tunnel Ho capito Io non lo capirò mai È veramente complicata questa cosa Parte la Panto Come la gestite Bandaggia Ho t'ora nonna Ma la mia parte è uguale Cioè la prima curva Ma vai al diavolo E campione devi girare Per farcela La velocità è impossibile Devi andare Dal terzo spugno Saltando da sopra Non chiedermi come Ma l'ho tutta accettata Cioè ma devo fa davvero così Questa che ti guardo brodi Così capito? È molto difficile Eh sì come parto così bro È nè Vai vai ti lascio andare Eh 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 Capito Questa è la rampa hacker È quella dopo il god Ti si trovi Ti sto vicino Tanto Che bello giumare Questa auto Vado Carino vero Quante macchine hai fatto Dopo il god Marco Ma capire Cioè stai facendo E farla tutta? Vecchio sì Davvero? Sì Ho capito ma Io non riesco a fermarmi Prima di andare a quello dopo Ragazzi io mi sono appena guardata in web No Sono tutta spettinata Con una faccia Uno iettatore Uno iettatore Campione è difficile Dunque perché veramente Guarda Ma Steph Quante macchine siete dopo il god? Marco Dopo la panto siamo lì E cioè è impossibile Semplicemente poi Ok Adesso arrivo io La faccio first try Sì guarda Arrivo anch'io ragazzi Puoi fare due tubi First try Se la faccio first try Mi date 100 euro Va bene Io voglio 3.000 euro A te Come hai detto va bene Sì no 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 Te lì do 100 euro Gonfiate i palloncini Tutti assieme Dai che facciamo Una bella festa Di compleanno Andiamo Steph ci sono Va nella sconversa Io li ho gonfiati Però nessuno mi ha seguito No io li ho gonfiati Io li sto gonfiati All'inizio Guarda No Qui arriva il terzo E muoio Eh C'è del ritmo No ragazzi Io cado all'ultimo Con la panto Cioè non è possibile Non c'è un checkpoint Ho finito E non c'è il checkpoint Ma voi state male Ma voi state male Non c'è il checkpoint Ma si è caduto? No devo far questa cosa? No 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 Vabbè vabbè Ok 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 Qua dobbiamo fermare la gara Dici? Ma non riesco a frenare Allora Voi fate tutti i tubi Sono 10 barra 12 Ok Quando arrivate alla fine Avete il classico wall ride Ok Dovete andare dall'altra parte Della strada Andando Verso l'alto Con il wall ride Girandovi E prendendo l'altra strada E rifacendo un wall ride Certo Tutto senza checkpoint È finita Mi state facendo venire La tristezza No Fede ma è una questione Di dove arrivi Arrivi Cioè io tra poco Mi ho messo a fiando Ok Cioè io tipo dico Da qua non posso più Migliorare Quindi buon Per me è finita qua Eh ma tu nel caso Hai il livello Del iniziato i tubi Ma non finito i tubi Ok Invece io ho il livello Del finito i tubi Ahah Capito? Ahah Ok Ragazzi so che non vi importerà No ragazzi non ho più spazio Per la facecam No no Ma come è possibile Addio facecam Non capisco come si fa Pensa che probabilmente Deve rifarlo con un'altra macchina dopo Allora Fede vedi che ci sono delle linee dritte No dai ragazzi In basso Sopra a destra a sinistra Avete capito che la dovrei fare No sono caduto al terzo All'altezza di quello di destra Vai Passi centrale Poi vai Bravo che ci riesce Io purtroppo Non ho Non ho ancora ottenuto Il god extinct No ragazzi Devo vedervi Non ci ho capito niente Perché poi parlando tutti Io mi arrendo Ah ma è un cambio World ride così Ok Beh non è un possibile Step No certo Dopo 12 tubi Lo diventa E quello Dopo quella dici che c'è Cavolo Dopo quello c'è qualcosa Cavolo Non stavo per dire cavolo Sappiatelo Sei morto? Apri No no E Marce non si sa quando ci mette a provare Io sto adottando la tecnica del silenzio e dello scomforto Ok Quanta roba quella Mi ha aperto La comprata No È finita No No Ho caduto dalla fine Non è vero step Avevo girato Aveva girato Io smacco il mio raga Basta Ciao Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao